ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti o bentornati in questo nuovo, nuovissimo video 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 qui sul mio canale smr allora, prima di iniziare, ovviamente come sempre, come state, io sparo tutto molto 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 bene 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 io sto abbastanza bene un po' allora avrete sicuramente notato la messenza qui sul canale allora, ma fondamentalmente è un po' per la scuola, un po' per altre cose insomma questo non è appunto il video, ma sarà il video try on all di Shane allora avrei dovuto registrare questo video un po' di tempo fa però appunto non ho avuto tempo e non ho avuto modo di registrarlo e vi lascio qui il codice sconto e vi dico che tutti i capi che mi sono arrivati sono veramente molto molto belli solamente vi dico ragazzi di stare attenti più attenti alle taglie perché alcune taglie possono essere incannevoli quindi non fate come me che praticamente non mi misuro e compro in base al sentimento no della taglia no, prendete le misure perché alcune S sono delle M alcune XS sono delle S quindi regolatevi un po' voi quindi allora questi capi non ve li faccio vedere a mano ma ve li faccio vedere direttamente sulla clip solamente un capo ho a mano perché appunto non avevo la clip da farvi vedere una cosa di cui mi preoccupo tantissimo ora in questo video spero che l'audio sia sincronizzato perché ho notato una cosa molto strana che l'audio non mi si sincronizza con il video sia rimane distaccato anche se comunque dall'inizio io lo metto bene sul editing diciamo ma dopo un po' si distacca e questa cosa non l'ho molto capita perché tardare l'audio oppure arrivare prima del video sarà sicuramente per un secondo o due quindi mi dispiace tantissimo questo sarà anche un pochino il video di prova per questa cosa per capire un po' come regolarmi con il telefono e il bluietti quindi abbiate pazienza se succede comunque io veramente ce la metto tutta per cercare di portarvi qualità nei video e per farvi rilassare farvi rilassare allora il codice sconto ve lo lascio anche qui giù nell'info box insieme a tutti i link dei capi il primo capo non indossato che ti faccio vedere però potete andarlo a vedere indossato sulla modella perché è la stessa cosa questa tutina color marroncino gialla l'ho portata allora non è un capo da me infatti non so perché l'ho presa non so cosa stavo pensando quando l'ho presa infatti quando l'ho presa ho detto no fammi andare a ricontrollare forse si sono sbagliati e invece no l'avevo proprio scelta io ed è praticamente una tutina fatta in questo modo ed è chiusa allora intanto è freschissimo per l'estate questa tipo per fare la turista in giro per qualche città è assolutamente azzeccata appena l'ho vista ho detto no poi me la sono messa me la sono provata ho detto oh si sta quindi sono abbastanza contenta del mio acquisto anche perché non ho una tutina per tutti i giorni proprio per andare a fare spesa quando non sai cosa metterti eccetera è fresca è buona e quindi secondo me ci sta poi finisce a zappa d'elefante con un bel sandalo carino ci sta tutto magari abbinato anche un bel cappellino a degli occhiali quindi questo era il primo capo te lo faccio vedere bene con questi bottoncini che sembrano un po' di pantini no? anche se mi abbastanza di plastica e una cosa che mi piace tantissimo sono le maniche fatte così che io adoro adoro tutto ciò che è principesco così così anche se la fantasia non è molto principesca e questo era il primo capo e ovviamente non rimane tipo un sacco di patate mi hanno dato anche la cittina e questa è la cinta ovviamente impagnance con l'alto però potrete sicuramente cambiare cinta potete mettere ancora una bella cinta grossa di pelle che io non ho però sarebbe assolutamente zaccato da avere queste cose allora ora vi farò vedere tutti i capi della clip quindi io prenderei un trigger per appunto non un trigger prenderei un trigger prenderei le ampolline per fare dei trigger ecco mentre appunto vi mostro le clip e appunto andando un po' di suoni con queste bellissime bolline poi credo che il prossimo video sarà un video dove vi aggiorno un pochino un live update che cosa sto facendo e lì vi dirò insomma tutto quanto e insomma quindi non vi faccio sbagliare questo video soprattutto se non mi seguite quindi è sul canale Viola e siete rimasti un pochino indietro quindi devo assolutamente guardare dei video live update e aggiornamenti allora il prossimo capo che vi faccio vedere è uno dei capi più belli di questo acquisto è uno tra i due che in realtà devo ancora decidere quale è più bello e vi sto parlando di questo vestitino qui e vi metterò sicuramente quella clip 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 ed è praticamente questo vestito che si lega al collo e ho fatto una clip abbastanza lunga quindi starete vedendo benissimo il prodotto e poi casca tipo a corsetto ha praticamente questo corsetto che a me dovrebbe andare un pochino più stretto però allora o lo faccio stringere perché è veramente bello come vestito oppure cerco di fare qualcosa ha queste balze e poi casca giù tipo vestito dell'800 cioè è bellissimo se fosse stato lungo sarebbe stata una spolta perché è veramente bello solamente che come potete vedere in vita mi sta molto largo quindi cercherò di ingegnarmi per fare qualcosa è bellissimo poi ha questa fantasia tipo furtata è molto 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 bello poi a me queste cose piacciono veramente tantissimo e si lega appunto dietro con un fiocchetto è proprio il vestito estivo per eccellenza poi voi fatemi sapere quali capo vi piace di più e quali votate e se acquisterete qualche capo se ci avete poi passiamo al secondo capo dove vi farò anche vedere la clip la clip la clip la clip allora per questo capo in realtà non so bene dove intussarlo è molto carino è un vestito molto carino di questo color jeans azzurro e ha sempre queste maniche bellissime mi piace tantissimo e una cosa che mi piace veramente veramente tanto è lo spacco quadrato bellissimo e il problema è che appunto è un po' da capire dove metterlo perchè mi immagino tipo stile picnic oppure stile come si chiama quella località Sperlong non so se qualcuno è diciamo del Lazio lo conosce sicuramente Sperlong e ho dicendo però appunto devo capire dove metterlo e come usarlo però mi piace tantissimo perchè casca c'è lungo a me gli apiti lunghi piacciono tantissimo e non c'è nessuno spacco è proprio con una guanna ampia pure abbastanza ampia e abbastanza diciamo fresco abbastanza fresco il tessuto poi se poi avete dei consigli su come usarli la gomma dentieri Ma il vestito è che ti sto per far vedere ora attraverso la clip 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 è un vestito bellissimo ragazze tutte dovrebbero averlo se ameri di questo stile ed è un tessuto di kimono giapponese alla fantasia veramente un vestito favoloso con questo spacco è stretto in vita è cascaggio abbastanza ampio e sempre con queste balze va il colore rosa di questo rosa lucidino cilipria, bellissimo e anche tutte le fantasia starete sicuramente vedendo la crepa questo l'ho già indossato è il primo che ho indossato in realtà di quest'ordine è veramente carino è azzeccato per riuscire la sera magari per fare qualche cena una cena una cena oppure che ne so una cena per andare a mangiare un dolce non lo so però potrete sicuramente sfruttarlo anche di giorno perché non lo vedo vestito proprio da sera a sera ma è anche sfruttabile di giorno e questo è uno forse l'acquisto perché mi sono stati inviati però è la scelta più giusta che io abbia fatto in questo ordine sicuramente poi dalla clip vedete meglio tutto il tessuto eccetera perché poi effettivamente ho pensato che farveli vedere qui a mano non si capisce niente che ho fatto secondo me la cosa importante la clip e poi come ultimo abito di cui sicuramente vedrai la clip comunque ragazzi sono solamente le 6 di sera più o meno e il mio stomaco sta facendo mangiarlo sta provando cibo come non mai comunque l'ultimo capo che ti faccio vedere è un altro bellissimo vestito e questo è un tessuto un pochino più più rigido più fresco e ha una legatura un po' strana che devo un po' capire però ha le maniche a spuffo come direbbe a me dei capelli russi ed è di questo color crema in realtà non l'ho ancora indossato però non vedo l'ora di indossarlo sicuro ora che si possono portare i sandali fatemi sapere quale capo vi è piaciuto di più a me sicuramente il vestito simile kimono giapponese e poi il capo quello simile ragazza vittoriana però devo capire come farlo stringere e poi questo l'ultimo un altro bel capo fatemi sapere se userete il codice sconto se questionete qualcosa mi sembra che il codice sconto sia lì del 15% sull'intero ordine io adoro i loro vestiti solo diciamo con un buon rapporto qualità prezzo e ce l'amo di ogni occasione anche da cerimonia mi sa ora ragazzi e ragazze grazie mille per aver guardato questo video io vi auguro la buona buona e noi ci rivediamo in un prossimo video sono tornata ovviamente dalla pausa quindi ritorneranno gli appuntamenti settimanali di 3 video a settimana grazie mille per essere stati qui con me per aver scelto il mio video per il tuo rilassamento buonanotte 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 buonanotte